O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto e mi aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora è sempre, nei secoli, nei secoli. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. O Signore, manda santi sacerdoti e ferventi religiosi alla Tua Chiesa. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce. Sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debituri. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, al Signore è con Te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno Tuo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, al Signore è con Te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno Tuo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, al Signore è con Te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno Tuo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, al Signore è con Te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno Tuo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, al Signore è con Te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno Tuo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, al Signore è con Te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno Tuo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, al Signore è con Te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno Tuo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, al Signore è con Te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno Tuo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, al Signore è con Te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno Tuo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, al Signore è con Te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno Tuo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. O Signore, manda santi sacerdoti, ferventi religiosi, alla Tua Chiesa. Salve, o Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A Te ricorriamo noi esuli, figli di Eva. A Te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsu, dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi Tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del ventre Tuo, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che Ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, che sei il nostro registeredo, che sei il mio custode, quello di Dio, che sei il ritorno di Dio, per100, o Revità di Dio. outlet le dar Grazie a tutti. Grazie a tutti.